Perché cosa fanno? Vanno lì a votare, votano così, prendono la legge sul femminicidio, voi queste cose non le sapete, ma è un'associazione vera, delinquere di stampo politico, sono veramente una criminalità organizzata, fanno la legge sul femminicidio, tu vai a leggere e c'è scritto il coma 7, che cade al coma 12 della legge 15 del coma 17. Allora, quelli li votano, non sanno neanche cosa votano, perché dicono, potete votare sì, e pigiano un tasto elettronico e votano sì, noi andiamo a leggerla. Allora, il coma 17 che cambia, il coma 19 della legge 15, vuol dire che con quel coma li cambiano, cambiano un'altra legge che non c'entra niente col femminicidio, cambiano la legge che avrebbe abrogato le province, dentro il femminicidio. Poi il coma 17 che modifica la legge 48 è per modificare la TAV, il TAV, il TAV della Val di Susa, dentro il femminicidio. Allora, se noi diciamo, non firmiamo una stronzata così sui giornali, questa informazione di merda, vergognosa di questo paese, dice, 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 dice che noi siamo a favore della violenza delle donne perché non abbiamo votato la legge sul femminicidio. Fanno questo.